Noto la morte sull'autostrada Siracusa Gela, la vittima è un 73enne. La mire è contorta di un'auto Opel Mokka grigia che è finita contro nel guardrail, un corpo esamine e l'ennesima scena di un incidente statale mortale che si è rificato sull'autostrada A18 Siracusa Gela nei pressi dello svincolo di Noto in direzione sud. Il sinistro autonoma è accaduto alle 13.10 circa quando un anziano 73enne, Ottavio Arancio, residenza Mantua, si trova a percorrere l'arteria in direzione sud. Non sono chiare le cause dell'incidente. Sul posto i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno accertato la morte dell'uomo, la polizia statale Sessione di Noto e i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere contorte dell'auto. Ancora chiusa la carreggiata che da Noto procede in direzione Rosolini.